Finisce la gara, Segrate batte Corigliano 3-0, siamo con Michele De Giorgi, il palleggiatore di Corigliano, una gara che avevate iniziato discretamente bene ma poi Segrate a metà del primo set ha preso il volo e non siete più riusciti a stare attaccati. Peccato sì, come hai detto tu, 13-8, 13-9 per noi, 14-8, hanno iniziato a battere benissimo e noi non abbiamo tenuto il ritmo, peccato perché il primo set hanno iniziato molto bene, stavamo giocando tranquilli bene e poi niente, abbiamo mollato un po' in ricezione, loro hanno iniziato a difendere, a battere, niente. Dalle statistiche infatti sembra che il problema sia stato in ricezione dove dicono che è stata piuttosto bassa, secondo te è stato lì il vostro problema della gara? Ma è stato, sì sicuramente, ci sono tanti altri aspetti da curare che insomma dobbiamo cercare prima possibile di risolvere però oggi come oggi con loro i quattro battitori in salto è stato veramente difficile. Venivate dalla bella vittoria di Loreto, questo sconfitto a Vitarpa ancora le ali o comunque siete in fiducia dopo quello che è successo settimana scorsa? No, noi siamo venuti qua sapendo che Segrate è stata prima fino a due mesi fa, era una buonissima squadra che lotterà sicuramente per salire, perciò siamo venuti almeno per lottare, ecco, come abbiamo fatto dappertutto, a Città di Castello abbiamo fatto 3-2, con Santa Croce abbiamo fatto 3-2, soltanto che loro veramente oggi hanno giocato molto bene. Voi invece, obiettivo in questo finale di campionato? Obiettivo è sicuramente la salvezza, speriamo di fare, di entrare nei play-off, adesso non so cosa ha fatto Isernia però sarà dura fino alla fine e dobbiamo cercare di evitare i play-out.